Sono 19 le interrogazioni sul tema d'attualità discusse in apertura della prima sessione di lavori di luglio del Consiglio Provinciale di Bolzano. Presentate da consigliere e consiglieri alla Giunta Provinciale riguardavano tra l'altro il tema del servizio di trasporto pubblico, l'energia idroelettrica e l'iniziativa Fair Play. Nel tempo dell'opposizione sono state approvate una proposta di IOTVA Wirt Underland affinché sia resa accessibile al pubblico tutta la documentazione prodotta in relazione all'insediamento della Commissione di Esperti Covid ed una del gruppo verde di una campagna affinché il maggior numero possibile di persone che ancora non possiedono l'Alto Adige Pass lo chieda e lo utilizzi. Respinte le mozioni del Team K per rivedere condizioni e criteri di accesso alle prestazioni sociali per le famiglie monoparentali. Del Partito Democratico per chiedere la delega alla provincia sulle attività di reinserimento dei detenuti e di Fjord Südtirol mit Widman insieme a Freyfraktion Südtirol Freiheit e Team K per un sistema di trasporto pubblico locale totalmente gratuito.